Dirò una cosa impopolare, ma me ne fotto. Si può criticare e biasimare Fabrizio Corona per molte cose, ma per quanto riguarda il mondo dell'informazione, mangia la pasta asciutta in testa a qualunque giornalista italiano in circolazione. Ma soprattutto, nella sua follia ed esagerazione, nella sua arroganza e nei suoi modi sicuramente discutibili, dimostra comunque una coerenza e un'autenticità che i mass media di oggi si sognano. In un settore totalmente fake, fatto di ciarlatani, zerbini e buffoni, Fabrizio Corona è una pecora nera e per questo, nonostante tutto, lo rispetto più di qualsiasi finto professionista dell'informazione. Non solo, godo anche come un riccio nel vederlo prendere per il c***o e mandare in tilt il sistema, che è marcio fino al midollo.